Benvenuti a Imprese Quotidiane, oggi ci troviamo in centro Belluno e precisamente da Confezioni Dal Magro, attività associata a Ascomi in compagnia di Mila. Ciao! Ciao! Quando nasce questa attività? Questa attività nasce nel secondo topoguerra con mio papà che aveva iniziato a fare mercati. Successivamente nel 1955 ha aperto l'attività proprio vera e propria e attorno al 1955-1996 ha aperto proprio il primo negozio in punto vendita di tasso. Un'attività storica. Un'attività storica, sì. Quali sono le peculiarità di questa attività? Qual è l'offerta al pubblico? Allora, inizialmente avevamo abbigliamento da uomo nei primi anni, poi ci siamo orientati sull'abbigliamento da donna e adesso siamo soprattutto abbigliamento da donna specializzato nelle taglie comode, taglie forti per donne belle e oltremisure. E come va l'attività? Allora, l'attività in questo momento stiamo facendo, cerchiamo appunto di farla funzionare il meglio possibile perché la realtà di Belluno non è molto semplice e noi cerchiamo appunto di rivitalizzare soprattutto la galleria Caffi dove mi sono trasferita due anni fa, cerchiamo appunto di migliorarla e cercare di aver fiducia appunto nella nostra città di Belluno. Cosa ti piace del tuo lavoro? Del mio lavoro mi piace un po' tutto, mi piace il contatto con le persone, mi piace parlare con le persone, mi piace appunto consigliarle cercando di aiutarle appunto a fare le scelte migliori per essere contente. Certo. E ultima cosa, quali sono i servizi ASCOMI di cui ti avvali di più? Allora, io mi avvalgo in questo momento appunto del servizio Paghe e dopo mi avvalgo appunto del servizio per fare i corsi, per fare i corsi in cui mi trovo veramente bene, infatti ho partecipato appunto al gruppo appunto dei corsi per rivitalizzare la Valbelluna di cui sono anche molto orgogliosa per questa cosa. Grazie mille. Grazie, buon lavoro. Grazie. Per la puntata di oggi è tutto, ma noi ci vediamo domani con Imprese Cotidiane. Per fortuna c'è l'ASCOMI.